Siamo in Champions! Siamo in Champions! Siamo in Champions! Siamo in Champions! Cazzo! Siamo in Champions, non ci posso credere che cazzo è successo. Cosa cazzo è successo a San Siro stasera? Porca troia! Dalbert non me lo fate vedere più neanche in cartolina. È entrato, è entrato, si è fatto saltare come un birillo. Si è fatto saltare come un birillo e abbiamo preso il gol dell'1-1. Abbiamo segnato il 2-1, ha fatto un'altra cappella e se non c'era De Frey sulla linea che ha mandato la palla sulla traversa ce la metteva nel culo. Dalbert te ne devi andare fuori dai coglioni. Sei una merda Dalbert, sei una merda. Sei una merda. Sei una merda Dalbert, sei una merda. Mai fuori dai coglioni vai. Icardi giustamente non li sbaglia mai i rigori stasera, sull'1-0 sbaglia il rigore. E lì ho detto eccolo lì, eccolo lì che adesso ce la infilano nel culo. Invece meno male, meno male Nainggolan. Comunque, mamma mia, noi dobbiamo sempre metterci nella merda perché se no non siamo l'Inter. Ci dobbiamo sempre mettere nella merda. Ma io non ho parole, non ho parole. Non ho parole. Se segnava Icardi il 2-0 era finita la partita. Non c'era più niente da dire, era finita. L'Empoli era morto. Li abbiamo rianimate, abbiamo rianimate i cadaveri. Andanovic, vi prego, io amo Andanovic. Fate in modo che questo video arrivi ad Andanovic, io lo amo. Io lo amo Andanovic. Voto 10 stasera Andanovic. Non ha fatto passare niente. Niente ha fatto passare Samir. E ce ne andiamo in Champions League. E ce ne andiamo in Champions League. Per il complesso della stagione è giusto così, ma stasera, per come abbiamo gestito il secondo tempo, meritavamo di prenderla nel culo, giustamente. Per fortuna, a volte la fortuna sorride anche dalla nostra parte. Il Milan va in Europa League. La Roma anche va a fare i preliminari. Inter che si qualifica come quarta, visto che l'Atalanta ha vinto col Sassuolo. Che sudata, ragazzi. Allora, Keita Valde, io ti voglio bene, no? Gran gol dell'1-0. Ma siamo 4 contro 2, in contropiede. Tu che cazzo fai? Butti giù il portiere? Che praticamente non lo può più prendere. Brozovic tirava lo stesso in porta. Tu lo vai a buttare giù, mi fai soffrire altri 30 secondi. Perché poi, dopo i 30 secondi successivi, hanno messo un altro cross in mezzo. Hanno messo un altro cross in mezzo e quasi ce la mettono nel culo, eh. Vabbè, comunque non voglio più sentirne parlare dell'Inter fino ad agosto, quando ricomincia il campionato. Andiamo in Champions League. Adesso probabilmente la società cambierà spalletti, perché Conte sembra ormai cosa fatta. Concentriamoci sul calciomercato, facciamo acquisti mirati, acquisti giusti per completare la rosa. Ma andiamo via chi non vuole restare. Non voglio fare nomi, perché non voglio fare polemica. E andiamo in Champions League. Milan, Succa, Milan, Succa. Tutti a casa, tutti a casa. Grande Nainggolan, grande Nainggolan, grande Nainggolan. Ciao ragazzi.